insomma st'arma fa cagare quindi da quello che sto vedendo è buono a sapersi ho appena cioè ma che è c'hanno spread infinito ma che è sta roba ma che è sta porcheria ma che è sta porcheria è lento insomma l'epic le armi le sanno fare o sono incredibilmente rotte o fanno cagare a spruzzo non c'è una via de mezzo doce bestia fai bene ad avere bestia nel tuo nickname tu mi parli di realismo in un gioco come fortnite sei una bestia di satana bro fattelo dire 37 persone alive ma che ci sta una sfida che prevede di suicidarsi ha messo una sfida di suicidarsi ragazzi ok ok ecco ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, quindi, quest'arma, il suo utilizzo, ho capito qual è, è dare un loot inutile se la trovate. Cioè, se voi aprite una cesta e trovate quell'arma, vi mettete le mani in faccia. Grazie. 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 Grazie.